Alessandro Basciano, dopo la rottura con Sofì Codegoni, prende una decisione importante, parte via dall'Italia. Si vede in una foto sui social che lui ha pubblicato, che si trova in un aereo e ha scritto, è forse arrivato quel momento in cui ti sei fatto mille domande e cercato in vano mille risposte. Ho dato tutto me stesso e combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia. Alla fine, a testa alta, so di avercela messa tutto e non posso dire di non aver provato. Ora è giusto riprovare a ritrovare me stesso. Sono due mesi che convivo con attacchi di panico e ansia. La mia salute e il mio stato d'animo purtroppo non sono dei migliori. Ho deciso di andare lontano, forse l'unico modo per poter realmente far sentire la mia mancanza. O forse no. Ho in ballo nuovi progetti importanti e ve ne parlerò. Purtroppo è stato tutto un senso unico. Mi manca tutto. E voi che cosa ne pensate di Alessandro Basciano? Scrivete qui sotto il video. Alessandro Basciano?